Un mese dopo torna a correre la Formula 1 e lo fa in Azerbaijan, circuito cittadino di Baku al termine di un weekend lungo di due gare ma non cambia ovviamente la sostanza, vince sempre la Red Bull sia per quanto riguarda la gara sprint sia per quanto riguarda la gara lunga, il dominatore però è quello che non ti aspetti perché vincerà Sergio Perez al termine di due gare molto ben condotte con qualche episodio compromesso. In un weekend che vede appunto una Red Bull che si conferma ai vari della classifica, una Ferrari che comunque è in crescita soprattutto con Leclerc, seconda macchina in pista, calano un posto Martin e Mercedes rispetto ai primi tre appuntamenti stagionali. Tutto questo però per dire che i protagonisti di fatto di entrambe le gare per le posizioni del podio, cioè quelle che di fatto contano, sono sempre gli stessi perché appunto le due Red Bull fanno un altro sport e nel frattempo in mezzo c'è Charles Leclerc. I protagonisti sono Sergio Perez, il monegasco e appunto l'olandese Max Verstappen con appunto degli episodi da discutere e di cui parlare in questo nuovo episodio del Racing Podcast. Perez va detto va a fare un weekend esemplare dominando in lungo e in largo entrambe le gare, soprattutto la prima, è vero che nella prima gara breve Verstappen aveva una macchina danneggiata e forse non avremmo mai la controprova per vedere se l'olandese poteva andare al sorpasso del messicano. Hanno fatto sta che comunque questa Red Bull appunto in tutte le piste possibili e immaginabili vince, a questo punto sono due gare vinte da Perez per quanto riguarda ovviamente le gare lunghe e due vinte ovviamente da Max Verstappen per un mondiale che appunto a pannaggio delle Red Bull di fatto sarà un duello tra l'olandese e il messicano. Ho detto che secondo me non è un vero e proprio duello perché Perez è un po' come Bottas ai tempi di Hamilton ma leggermente meglio. Una gara sprint che appunto vedeva comunque una Ferrari in crescita perché è pole position di Charles Leclerc al sabato non concretizzata perché la Red Bull era nettamente superiore. Lo era stato in gara sprint, lo è stato anche nella gara lunga, gara lunga che va detto non è stata niente di eccezionale. L'unico episodio da segnalare per quanto riguarda la gara della domenica è l'incidente o meglio la safety car creata da Nick DeVries che di fatto va a vattere a muro nella parte vecchia di Baku e appunto deve abdicare al decimo giro dei 51 previsti. Arriverà una safety car l'unico episodio evidentemente di questa gara di Baku che in realtà è l'episodio che cambia effettivamente le carte in tavola perché il danneggiato a differenza magari delle previsioni è Max Verstappen che si era fermato un giro prima rispetto alla safety car di Nick DeVries. Il connazionale appunto di Verstappen involontariamente fa il gioco di Perez, rivale di Verstappen in questo mondiale. Perez sfrutterà insieme anche ai primi della classifica il pit stop in tempo ridotto causa appunto safety car. Verstappen rientrerà in terza posizione e alla fine sarà la solita doppietta Red Bull come abbiamo visto oramai nell'inizio di questa stagione con appunto la differenza che come agedda Perez evidentemente va alla vittoria. Sesta affermazione in carriera per il pilota messicano per il quale so nel suo inno nazionale Perez è di fatto uno specialista dei cittadini perché sei vittorie in carriera, cinque in circuito i cittadini, due a Baku e Perez in qualche modo fa la storia perché è il primo pilota della storia appunto a vincere due volte a Baku, nessuno prima di lui. Per un mondiale che appunto dopo un mese di pausa è stata la seguente classifica con Verstappen in testa con 93 punti, sei soltanto di vantaggio su Sergio Perez che di fatto fa la seconda vittoria in quattro gare. Nella Rorio di Marche diciamo del messicano c'è questo quinto posto di Melbourne che è un po' deleterio ma comunque un po' compassato dal giro veloce ma appunto non cambia la sostanza. È un mondiale che praticamente è già assegnato alla Red Bull alla quarta gara, c'è da vedere chi lo vincerà tra Perez e Verstappen, ma verosimilmente Verstappen perché è vero che Perez è palesemente una seconda guida ma di livello superiore ai tempi di Bottas quando c'era Hamilton ma la sostanza sarà sempre quella. Abbiamo visto comunque come Verstappen detesti perdere e come effettivamente si è uscito un pochino con il bronzo da questo weekend di Baku, al netto che comunque è uno di Marche di Verstappen, è quello di un pilota e di un'auto soprattutto di un'altra categoria. Verstappen che va detto però ha qualcosa di cui rammaricarsi perché non prende i punti del giro veloce perché lo sottrae George Russell che comunque ha fatto una discreta gara quantomeno alla sprint un po' in colore invece alla domenica ma invece figlia della qualificazione un po' tremenda. Il podio invece lo completa Charles Leclerc che risolleva in parte la sua stagione una Ferrari che dopo il mese di oblio tra marzo e aprile fa dei salti in avanti importantissimi soprattutto con Charles Leclerc che si dimostra ancora una volta il qualificatore più forte di sempre probabilmente di quest'era moderna e forse non solo perché con una macchina inferiore sul giro secco abbiamo visto come il Monegasco sia un talento incredibile e come effettivamente abbia messo tanto del suo e questo terzo posto di Leclerc è tanto del suo. Per questo motivo secondo me il Monegasco si merita senza se e senza ma il premio di Driver of the Day. Dicevamo prima invece che Verstappen può recriminare perché questo signore qui George Russell ha fatto il bello e il cattivo tempo con Verstappen e anche nella gara lunga perché Russell è vero che ha fatto una gara in colore ma ha fatto il giro veloce intanto nella gara lunga e ha preso un portaposto importante in una gara sprint combattuta con Max Verstappen. Verstappen peraltro è andato a dirle come dire piano a Russell parole al vetriolo dell'olandese rispetto all'inglese. Va detto che secondo me nell'episodio tanto discusso tra Verstappen e Russell con appunto la tenuta di Russell all'esterno su Verstappen e l'ingresso poi soprattutto dell'inglese. Il computer dell'olandese francamente Russell ha tutte le ragioni del mondo e Verstappen per una volta l'ha fatta fuori, anzi non per la prima volta ma comunque l'ha fatta fuori dal vaso per usare un termine molto terra terra. Verstappen è stato lui peraltro ad avere adito a questo tipo di manovre e lamentarsi di una manovra che ha subito lui quando lui è anni che fa certi tipi di manovre francamente lascia molto il tempo che trova. Soprattutto nello status di superstar che è in questo momento Max Verstappen, soprattutto considerato che appunto è indirizzato verso il suo terzo titolo del mondo nonostante il distacco con Perez sia relativamente ridotto. Parliamo appunto di sei soli punti. Comunque ci sarà modo per ribadire i valori in campo tra una settimana a Miami. Valori in campo che invece a Baccarac sono invece nel seguente modo perché abbiamo visto il podio, vediamo le altre posizioni. Quarto è Fernando Alonso che comunque ha 42 anni, si dimostra anche una volta coriace e competitiva, a momenti arriva a podio perché di fatto le Clerc e Alonso arrivano in volata finale. 8 decimi separano nel Monegasco dallo spagnolo, Alonso ha 42 anni e terzo da solo nel mondiale con una macchina incredibilmente migliorata come la Aston Martin. Quinto è Carlos Sainz, una delle delusioni di questa gara, è vero che la Ferrari è migliorata, è tutto quello che volete, ma Sainz si prende le piste sia da Alonso sia da Leclerc. Di fatto tra il Monegasco e Sainz parlano più di 20 secondi, Sainz addirittura partiva quarto e ha fatto la gara del Gambro, normalmente veniva passato sia da Stroll sia da Hamilton, segno che evidentemente Sainz non si è adattato ancora a questa macchina del 2023 e sono più le prestazioni sotto tono che le prestazioni evidentemente sul pezzo. Con questa macchina Sainz poteva puntare secondo me a una facile quarta posizione e quantomeno contenere il distacco da Leclerc, che abbiamo visto come sia superiore anche in questo momento a Carlos Sainz nonostante sia dietro in classifica. Per questo motivo Sainz si merita la delusione del giorno perché evidentemente è vero che ci sono stati passi in avanti, ma la gara di Sainz è assolutamente incolore. Sesto è Lewis Hamilton che a momenti poteva arrivare a sperare nelle prime cinque posizioni con una Mercedes che invece a bacco si è trovata tantissimo in difficoltà e l'abbiamo visto anche con le prestazioni di George Russell che però è figlia di una qualificazione infelice, a differenza invece della gara sprint. Settima posizione per Lance Stroll che comunque conferma i miglioramenti dell'Aston Martin. Se Stroll arriva in top 10 ed è un pilota di rango inferiore rispetto a tanti altri, evidentemente è perché la macchina ha fatto un passo in avanti clamoroso. Di Russell abbiamo detto, ottima posizione nella gara lunga che è quello che conta. Non una posizione per Lando Norris che effettivamente migliora un pochino con questa McLaren che ha portato qualche aggiornamento a Baku non per fare delle prestazioni al top del top ma comunque per essere una macchina dignitosa e presentabile. In qualificazione già la McLaren ha fatto dei passi in avanti sostanziali, in gara raccoglie qualche punto, accontentiamoci quello che passa il convento. Decima posizione per chiudere la zona punti è quella di Yuki Tsunoda che conferma evidentemente la posizione di Melbourne. E' un pilota migliorato a Tsunoda nel suo piccolo, che è una macchina che evidentemente è non così al top rispetto alle altre. E' una prestazione di livello nel piccolo, quella di Tsunoda, considerato che appunto il suo più quotato compagno di squadra Nick DeVries finisce sempre solo after the music. Quindi per una volta diamo a Tsunoda il merito di fare delle gare molto molto interessanti. Tra una settimana si corre a Miami, un altro circuito cittadino, vedremo se Perez riuscirà a confermare questa statistica incredibile dei cittadini. Ricordiamo 5 vittorie di 6 in carriera proprio sui circuiti non tradizionali, appunto sarà l'ultimo appuntamento extraoceano, quello di Miami prima di andare a Imola. Primo appuntamento europeo della stagione weekend del 20 e 21 di maggio. Ha corso anche la Formula 2 invece in quelle di Azerbaijan e anche qui si riprende una sosta importante, quella di Melbourne. E come appunto è stato un dominatore per quanto riguarda la Formula 1 che è la Red Bull, il dominatore della Formula 2 a Baku è Oliver Berman, pilota del team prima del Ferrari Junior Team. Due vittorie su due gare sia nella sprint sia nella feature race e una posizione in classifica che viene assolutamente ribaltata. Berman era after the music prima del weekend a zero e invece a un quinto di stagione si trovano nei primi 5 posti. Per il pilota Junior Team della Ferrari sono le prime due vittorie in carriera e per lui suona God Save the Queen in una weekend diciamo di Baku molto interessante. Una gara sprint che di fatto è un'ecatombe per quanto riguarda i 22 piloti della categoria. Alla fine la spunta appunto l'inglese di Prema e del Ferrari Junior Team, prima vittoria in carriera dicevamo appunto per Berman. In seconda posizione Fredrik Vesti che non approfitta fino in fondo della debacle di Purcher e Iwasa, i due grandi leader di questo campionato di Formula 2 e Vesti ha molto da rammaricarsi perché viene superato al fun di codone prima che la gara venga interrotta per Safety Car e alla fine per quel decimo di secondo Berman si aggiudica la vittoria ed erano punti fondamentali per il campionato del danese. Terza posizione invece per quanto riguarda la gara sprint per Jack Crawford, pilota dello Junior Team della Red Bull che appunto completa il podio in una gara che ha visto soltanto 11 di 22 piloti al traguardo. Infatti vediamo che ci sono piazzamenti abbastanza interessanti o comunque sorprendenti come i punti di Juan Manuel Correa, di Clement Novalac, Roman Stane che primi della stagione per gli ultimi due addirittura 11 piloti con un macello totale alla fine del diciannovesimo giro in sprint race con 6 piloti fuori in curva 1 con una ripartenza da Safety Car insomma un'ecatombe totale. Alla fine infatti abbiamo avuto una feature race un po' più sul pezzo con molti meno ritiri e alla fine ancora però lo stesso dominatore ovvero Oliver Berman che alla fine riesce a fare una doppietta incredibile e a insarsi in quarta posizione assoluta in un campionato del mondo che per il momento lo vedeva assolutamente escluso. In seconda posizione in gara sprint abbiamo il pilota brasiliano Enzo Fittipaldi, primo podio in Formula 2 per il fratello di Pietro che ha corso in Haas qualche anno fa come riserva e appunto podio importante per lui che è un junior team della Red Bull e alla fine il terzo posto è affidato a Theo Purcher, junior team dell'Alfa Romeo per il francese molto talentuoso e leadership di questo mondiale assicurata per il francese che appunto ha soltanto tre punti di distacco su Frederick Vesti che finisce quarto. La debacle assoluta è quella di Ayumu Iwasa che arrivava a Baku da leader del campionato del mondo e alla fine deve abdicare per in realtà pochi punti parliamo di sette lunghezze rispetto al primo di distacco e quattro sole da vesti ma è un campionato veramente incerto che è di fatto soltanto al quarto evento concluso su 14. Veramente un campionato molto avvicente che appunto riprenderà l'ostilità a Imola assieme alla Formula 3 di cui ovviamente parleremo nel prossimo appuntamento con il Racing Podcast. Vi lascio dunque con la classifica del mondiale di Formula 1 aggiornata al Gran Premio di Baku con la vittoria di Sergio Perez seconda in stagione, sesta in carriera e seconda anche al circuito di Baku. Verstappen è ancora leader del mondiale in un duello tutto in famiglia Red Bull ma con soltanto sei punti di vantaggio sul messicano. Tra una settimana si corre a Miami, altro circuito cittadino e ci aggiorneremo ovviamente con i prossimi Racing Podcast. Il saluto da parte di Matthew Thorgard. Ci vediamo al prossimo video. Grazie.